non saprei cosa dirvi in questo momento sono molto emozionata e non ho voce ribadisco il messaggio che vi ho mandato ieri siete una bella coppia creerete una bella famiglia di sicuro vi auguro tutto il bene di questo mondo che si fa ma partiamo quando vogliamo noi augurio augurie 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 a beveruna bellissime possiamo andare ma partiamo quando vogliamo noi bureaue augurie augurie auguroni e visto Quando dobbiamo parlare? Ma partiamo quando vogliamo noi. Possiamo? Ciao sposi, augurissimi, ma quando tornate vi stiamo aspettando. Aspetta, fammi dire una cosa. Tanti, 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 tanti auguri. Si è arrivato a fine qua, ma questo non è la fine, questo è il principio. Da qua comincia e comincia la vita vera. In bocca a lui. Ciao. Ciao. Venite ragazzi, venite. Quando dobbiamo parlare? Vicini, vicini. Ecchi me. Che si fa? Allora, un brindisi agli sposi. Aspetta, da registrare. Possiamo? Allora, un brindisi agli sposi. Un brindisi agli sposi. Che ci possiamo dire? Che ci possiamo augurare? Che ci possiamo augurare? Una buona vita. Poi, poi. Fate bravi. Lunga vita. Pasquale, eh, Pasquale. Non bere, Armand. Vado già assambriato. Franciere, fai bravo, ti spiace a me cosi. No, veramente. Deba la fofo. Deba la fofo. Scusa, hai ragione. Non spezza in corsa. Perdonalo. Aguri, aguri, aguri. Aguri. Mi raccomando, eh. Mi raccomando. A che cosa? A non ingrassare. Voi, che sei sottopigli, eh. Mi timi, mi timi. Ma mi dice un po', a te è un messaggio bellissimo. Ciò che si gira? Eh. Tanti auguri. No. No. Beh, sto da andare con ciò. Beh, improvvisato, improvvisato, improvvisato. Ciao sposi. Aspetta, ancora devi darvi. Ciao sposi. Lunga vita. Non vi regalo una rosa perché ci sono le spine. Non vi regalo una stella perché è troppo lontana. Ma la vostra vita si è illuminata. piena di luce e piena di fiori, senza spine. Auguri. Io sono troppo emozionato per... Sei anche un po' di parte, eh. Sei anche un po' di parte. Comunque, felicità, tanta lunga vita è veritamente bello. Io sono un po' brillo invece per... Per esternare. Sì, tutta gioia. Vi auguro tanta felicità e tutto il bene che vi meritate, che è tanto. Vi voglio bene, un bacio. Io sono l'ultimo, vi ho conosciuto da poco e niente, sono contento di far parte della famiglia. Di questa giornata e tanti auguri, veramente, di cuore. Vi vogliamo bene. Belli. Grande. Dimi, dammi il via. Ciac, si gira? Tanti auguri a Francesco e a Deborah, Anna, da Antonio, Antonio Nuttolo, 3206632137. Quando volete chiamatemi. Un bacio. Auguri, zia, tutto bene? Cerca di dimagrire. Domiciato. Ciac, si gira? Auguri, zia, zia, zia. Amore, cosa vogliamo dire, ragazzi? Allora, noi vi vogliamo augurare tutto il bene. Fate tanti nipotini. Adesso viaggio. Manca poco. Tanti nipotini. Io devo fare la madrina. Anzi, c'è una femminuccia, lo sai. E niente. Siete bellissimi. Noi vi auguriamo tutto il bene di questo mondo. Tu non c'entri niente. Andate avanti così. Siate sempre complici in qualsiasi cosa. Mi raccomando, tutte le sere chiarite qualsiasi dubbio. Anche con una testata, va bene lo stesso. È importante chiarire poi. Deborah, stai calma. Da un bacino. Vi vogliamo bene. Tanto, tanto bene. Matteo adesso piange. Adesso Matteo piange. Un bacio. Un bacio a tutti e due. Mamma, non sta restante. Lo sta, ci sono. Ciac, si gira? Ragazzi. Allora, siamo stati nominati. Siamo stati nominati. Comunque siamo proprio spontaneamente a fare questo video. E niente, auguri a Debole e a Francesco. Adesso, adesso, agli sposi. Ovviamente, a Francesco, un augurio maggiore. Sono Francesco. Perché, dicevo. Noi crediamo in te. Francesco, noi crediamo in te. Ce la puoi fare. No, è vero, sorellina, tu sei così dolce. Francesco, a comando, trattala bene. Attimamente facciamo... Spizzamento. Noi siamo un attimino più oggettivi. Conoscendo te, conoscendo noi come siamo, sappiamo Francesco a cosa andrà in conto. E noi come fratelli, come sorelle. E come fratelli dietro. Anche noi. Sono anche io dietro, all'Armando. A parte tutto, è stato emozionante vederti. Sì, Tiziana ha pianto subito. Vabbè. Vedete l'ultima che si sposa e ti vogliamo bene. E loro si rendono conto che stanno invecchiando anche io. Non è vero, fatti fatti tu. Un bacio da parte nostra. Un bacione, ciao! Auguri, se la vita è nostra. Ciao. Franci, lo sai, con le parole non sono molto bravo. Una cosa che posso dirti è che sono contento. Che mia sorella ti ha scelto perché sei veramente una bellissima persona. Ti voglio bene come mio fratello, lo sai. E spero che il futuro insieme a mia sorella sarà sempre più bello. È pieno di gioia e tanta felicità. Ci dici se stiamo bene? Finalmente è arrivato questo giorno per loro. Sì. Siamo felici. Tantissimo. È uscito il sole, come gli avevo detto. E infatti lei è uscita dalla chiesa e anche il sole è uscito, come lei. È sì. È la mia principessa. Tantissimi auguri ragazzi. E ora ci vedremo quando facete un battesimo creatore. Un bacio, vi amiamo. Siamo contenti di essere venuti. No, allora, se non mi dobbiamo di qualcosa tipo siamo felici che in questo giorno ci avete voluto qui con voi. Questo devi dire. Sì. Scusa, lo faremo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, non è il grande fratello ragazzi. No, 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 no. E spero che possiate vivere felice. Spero che vi venti insieme. Non fa male. Tu non fa male. Domenico, vedi. Ragazzi, siamo felici che questo giorno ci avete voluto qui con voi per trascorrele insieme. siamo siamo molto felici che in questo giorno siamo siamo molto felici che in questo giorno voi ci avete avete tenuto a volerci qui con voi e ci ho provato spero che da oggi in poi il vostro amore che va avanti da così tanto tempo possa continuare per il resto della vostra vita c'è che si gira la carvezza infame david e allora nomina nessuno perché a me siamo i testimoni io dico proprio appassionatamente ma comunque auguriamo a debora e francesco tutto il bene dai sì e poi tutte le cialde che mi hai consumato fino adesso veniamo a casa tua vostra si fregge scusami caro scusami li dobbiamo consumare a casa tua questa vostra vostra a casa loro loro vai bruno dici tu qualcosa vengo un vento a consumare e sprinti ma vengo pure a mangiare dai tu prima me ne sto facendo hai difficoltà con scambio e non è sempre un intruso qui dentro qua perché io poi nomino francesca e debora a bella no vi ringraziamo che ci avete scelto dai 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 tu che cazzo mi hai messa a p***da pure sì che la rionino è limitato quasi a citt'ho ma non fa niente scusateli perché è l'effetto del vino grazie per averci scelto ma c'è l'ora perché non abbiamo le parole perché vi amiamo tanto auguri possiamo andare tranquillamente la banda di scemo la cosa importante è che stasera ci siamo quasi commossi a vedere la sposa poi per il resto non avendo figlie femmine lei è particolare per me comunque ci stiamo divertendo e ci stiamo faccia dei divertiti grazie a tutti siamo sposati grazie grazie per tutti gli invitati e basta va bene ma io per il riparto il buono grazie andiamo andiamo dopo forse col vino qualche parola ciao ragazzi tantissimi auguri me l'ho portata da milano lo so è un po' così noi milanesi siamo così un po' freddini un po' freddini però non è animato anche io durante la serenata era lei che ballava la parantella cioè diciamo mettiamolo vero 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 mi sto napoletizzando e infatti siamo napoletizzando anche il fatto che a mezzanotte mangi il cornetto è bello poi Deborah ti insegno bene come si fa ad ingrassare che sei troppo deferita anche io sono sorellina lo sai che io sono di anni e anni di esperienza Deborah e Francesco mi auguro che state sempre insieme se avete ascoltato la celebrazione oggi la ricordate sempre nella vostra mente pure quando sarò in difficoltà ce l'ho detto già a Deborah e a Francesco dovere sempre ragionare su qualsiasi cosa che succede andiamo andando bene andiamo il tripe del mondo bene dopo dieci anni finalmente siamo riusciti a realizzare il nostro sogno niente lo so che ti amo tantissimo e non vedo l'ora di creare una bellissima famiglia con te sempre se Dio vuole per adesso stiamo festeggiando il nostro matrimonio fino ad ora è andato benissimo e abbiamo fatto anche il balletto vabbè non fa niente non ci doveva essere non fa niente andava bene così e niente aspettiamo te per fare l'ultimo video e poi salutiamo tutti gli invitati e ringraziamo tutti quanti è arrivato il giorno fatifico che aspettavo da tanto siamo contenti per te sei felice e voletevi bene tanti auguri da tutti noi e qualsiasi cosa so che siamo presenti faccio bene niente ok siamo qui siamo al secondo al primo secondo si è l'unico secondo abbiamo pensato un po' tardi vero? si che abbiamo fatto noi un po' tardi purtroppo scusateci però spero che vi sia piaciuto tutto che siete stati bene con noi ma a prescindere non vogliamo ringraziarvi per la vostra presenza per il piacere di stare con noi e di festeggiare questo grande giorno con noi ci avete onorato della vostra presenza e noi abbiamo scelto le persone che volevamo un vicino in questo giorno qualcuno purtroppo non è potuto venire la maggior parte si e ci fa molto piacere noi ci siamo divertiti molto si siamo felicissimi e... grazie grazie a tutti grazie ecco io ecco io grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti